Si chiama Sea Bean, il cestino dell'immondizia del mare, una specie di secchio che galleggia a pelo d'acqua, collegato ad una pompa a terra che, aspirando l'acqua dentro il secchio, permette alla rete di fibra di trattenere tutti i rifiuti galleggianti. Una volta che la rete è piena, basta svuotarla a terra e il cestino funziona anche se la rete è piena o quasi. La pompa, infatti, continua ad aspirare e tiene i rifiuti vicini al cestino. Sea Bean aspira e trattiene anche alcuni liquidi, oli e detergenti, e potrà essere ulteriormente perfezionato per far sì che funzioni anche con altri materiali. Questa è l'idea di Andrew Tarton e Pete Ceglinski, due ragazzi australiani appassionati di surf e di mare che hanno lasciato i propri lavori e si dedicano a tempo pieno a Sea Bean Project.